Cari concittadini, anche questo 2018 è giunto ormai alla fine. Ancora una volta l'occasione che ci viene offerta da Sant'Agatesi nel mondo si trasforma per noi in alcune importanti opportunità di riflessione. Una prima profonda considerazione intanto sento di doverla fare da un punto di vista umano. Quest'anno le festività natalizie nel nostro paese sono state purtroppo offuscate da un velo di tristezza. Alcuni cari amici e concittadini sono prematuramente venuti a mancare, proprio in questi giorni, che avrebbero dovuto rappresentare per tutti un'occasione di gioia. Ecco, a questi nostri amici e ai loro familiari va oggi il mio pensiero affettuoso e commosso. Sono convinto che una comunità è degna di tale nome quando è capace di sentirsi unita, in particolare quando è chiamata ad esprimere sentimenti di umana solidarietà, sentimenti che questo nostro paese, anche in questo momento di tristezza, ha saputo esprimere davvero con grande generosità. E veniamo ora ad altre riflessioni, quelle di natura tecnica, quelle riflessioni che il mio ruolo di sindaco mi impone a conclusione di un anno amministrativo che ancora una volta ci ha visti impegnati tra preoccupazioni e incertezze. La nota e grave situazione finanziaria del nostro comune, figlia di disastrose gestioni amministrative passate, continua infatti ad attanagliare e a tenere in scacco il nostro paese. Nonostante il grande impegno che quotidianamente mettiamo nel tentare di arginare ogni volta problematiche come sempre provenienti dal passato, la vita amministrativa si fa sempre più difficile e a discapito di un'efficace crescita ci riporta ogni volta a dover cercare strade nuove da percorrere purtroppo ancora in salita. Tutto ciò nonostante l'impegno che l'amministrazione comunale, che mi onoro di rappresentare, mette quotidianamente a lavorare con grande operosità. Un impegno il nostro che da anni ci vede ancora oggi continuare a rinunciare alle nostre legittime spettanze, fino al punto di poterci permettere di riuscire ad acquistare un moderno scuolabus per i bambini del nostro paese. Un segnale importante questo, dato proprio qualche mese fa, nettamente in controtendenza rispetto al passato, a conferma della concreta attenzione verso la comunità che ci appartiene, ci osserva e ci giudica. Ecco allora che anche quest'anno il senso profondo dei miei auguri non si vuole limitare al classico Buon Natale, come semplice manifestazione di auspici formali, ma vuole esprimere la ferma volontà a voler proseguire in maniera costante nella ricerca di soluzioni capaci di dare risposte concrete ai bisogni della nostra gente. Perché la vera sfida non consiste nel far credere di essere più forti degli altri, ma nel dimostrare a noi stessi di essere e continuare a sentirci migliori con gli altri. E questo è il traguardo a cui puntiamo. Sono queste le conquiste che ci piacciono. I risultati importanti e più belli si ottengono sempre lavorando insieme, amministratori e cittadini, uniti verso una meta comune, il bene del Paese. L'augurio più bello che io possa fare a me stesso e a tutti voi allora, miei cari concittadini, è quello di ritrovarci qui anche il prossimo anno, anche alla vigilia del prossimo Santo Natale, a raccontarci e ricordare a noi stessi e agli altri che insieme è possibile che l'opportunità di migliorare la nostra realtà passa sempre attraverso la capacità di riuscire a migliorare anzitutto noi stessi e le nostre scelte. E questo dobbiamo essere capaci di farlo insieme, noi e voi, per il bene comune, per il futuro del nostro Paese. Ce la faremo, ne sono certo, perché come tempo fa ricordava qualcuno, con la parola alla gente non gli si fa nulla. Sul piano divino ci vuole la grazia, ma sul piano umano ci vuole l'esempio. Auguri a tutti i santagatesi ovunque residenti. Saluto Gesù Cristo, adesso nel tempo di Natale, con grande cuore voglio farvi auguri di Buon Natale. Nostro Signore che è nato nella grotta di Betlemme, illumina i nostri passi. Dopo notte di buio, lui viene per illuminare la nostra vita. San Girolamo diceva che Dio è che è così grande, è creatore di ogni cosa, è scelto un buco nella terra per diventare uomo, per far trovarsi dai altri nella l'umiltà e nella semplicità. Nel questo tempo siamo chiamati di cercare Dio incarnato, Dio incarnato nell'uomo, Dio della pace, Dio dell'amore. E per queste feste vi auguro prima di tutto l'amore che riscalda e la pace che protegga questo amore che vogliamo vivere ogni giorno. E vi auguro affinché questo impegno non sia soltanto per i giorni di Natale, ma un impegno dei nostri giorni quotidiani. A tutti i santagatesi nel Paese e nel mondo, auguri Buon Natale e Buon Nuovo Anno.